Reti accessori per la palla a volo, cronometri, porte e reti per il calcetto, canestri per la pratica della palla canestro, materassi per gli esercizi fisici e stuoglie varie. Ammonta poco meno di 8.000 euro il finanziamento ottenuto dal comune di Castellanagrotte nell'ambito dell'avviso F2023 acquisto di attrezzature tecnico-sportive della legge regionale numero 33-2006 e del programma operativo 2023-2024 dello sport. Gli impianti che saranno interessati di queste attrezzature saranno ovviamente il Palagrotte, il Palavalli d'Itra che a breve sarà riaperto dopo tanti anni di chiusura e anche lo Stadio Azzurri d'Italia, quindi i nostri tre impianti principali beneficeranno di queste attrezzature e potranno permettere quindi di poter fare attività sportiva con delle attrezzature sempre più nuove. Le attrezzature acquisite dall'ente saranno messe a disposizione degli impianti sportivi comunali esistenti sul territorio, così da poter dare impulso alle tante attività e discipline.